Di quello che ho vissuto io, in questi vent'anni, qui sono stato presidente dell'associazione con cui ho collaborato con Stefano Fagioli, che è davvero un medico di quelli che non si fa troppi problemi da questo punto di vista qua, diciamo, e insieme abbiamo costruito una cultura, una cultura del hai bisogno, eccomi qua, certo non siamo andati a vedere i cavigli, le cose, le regole, questo, questo, l'abbiamo fatto e devo dire che nessuno si è mai lamentato. Poi noi ad un certo punto ci dobbiamo fermare, noi come associazione diamo delle risposte di natura, come dire, generale, ma quando si entra nello specifico caso mandiamo, ovviamente, rimandiamo a quello che è. Certo che se avessimo un servizio di preconsulenza virtuale dove c'è un esperto che, come dire, già immediatamente saremmo davvero, per adesso abbiamo solo, diciamo, l'esperto risponde dove rispondono medici sempre di Bergamo. Ma è anche vero che c'è, come dire, ogni cosa va fatta, come dire, in una maniera progressiva, equilibrata e dove tutto. Io credo che, ho letto anche uno studio su una piattaforma, diciamo, virtuale dove sono state fatte queste cose, questi percorsi su pazienti dermatologici, hanno valutato anche i costi ed in effetti c'è un cost saving. però per quel gruppo di pazienti che effettivamente devono essere visti, diciamo, spesso su certe cose. Io quello che ho potuto notare è che tutti i nostri servizi in cui c'era lo scambio paziente-paziente, medico-paziente one-to-one o comunque medico-gruppo di pazienti, tutti quanti erano, diciamo, hanno espresso la loro felicità o comunque erano, come dire, soddisfatti. Perché a volte si va da un medico magari per chiedere una sola cosa, no? Una sola cosa. Beh, l'epetitc si può trasmettere, magari vanno lì, non hanno neanche il coraggio di chiedere. E a volte la virtualità aiuta anche, come dire, a aprirsi ad argomenti che magari di fronte al medico a volte uno ha un po' più di imbarazzo. Ecco, ci sono tante cose positive, ma poi bisogna avere l'intelligenza di fermarsi quando la cosa può sfuggire di mano, diciamo così. Io parlo da presidente di associazione, naturalmente, no? Perché quindi io ho questo punto di vista, devo fermarmi, ma tutti quelli che hanno lavorato con noi sanno perfettamente che riusciamo per adesso a gestire questo genere di problematica, nella felicità, nell'interesse di tutti i pazienti e anche dei medici che hanno lavorato con noi.